Non si ferma la mobilitazione delle istituzioni in difesa dei presidi di giustizia e sicurezza che rischiano di sparire dal Molise per effetto del riordino complessivo della mappa giudiziaria italiana e della spending review. Una nutrita delegazione composta dai parlamentari venitelli, leva e ruta, dal presidente del Consiglio regionale Cotugno, l'assessore veneziale e consiglieri Fusco Perrelle e Totaro ha incontrato il vice ministro dell'interno Filippo Bubico. Al rappresentante del governo Renzi è stata prospettata una situazione estremamente preoccupante. La chiusura del comando regionale dei carabinieri, trasferito in Abruzzo e l'annunciata soppressione del comando regionale dell'esercito, prevista per il 2018, rappresentano un nuovo colpo alla sicurezza e alla tranquillità dei cittadini. Il Molise ha fatto della sicurezza interna un biglietto da visita da mostrare e diffondere con orgoglio, detto il presidente del Consiglio Cotugno. Abbiamo inoltre chiesto che ci sia un attento controllo sulla presenza dei collaboratori di giustizia e di riconsiderare la quota dei soggiorni nel Molise, argomento che tra l'altro è approdato in Consiglio regionale in diverse occasioni. E poi è stato posto l'accento anche sulla soppressione della Corte d'Appello di Campobasso. Alcuni servizi possono essere condivisi con altre regioni, ha precisato Cotugno, altri come quelli della Corte d'Appello e dei Tribunali, che identificano l'autonomia stessa di un territorio, vanno necessariamente salvaguardati. Legati alla Corte d'Appello, ha concluso Cotugno, ci sono una serie di servizi e funzioni che verrebbero di fatto chiusi, facendo venir meno la necessità di identificarci come regione. Il viceministro ha promesso il suo interessamento affinché venga trovata una soluzione al problema. Nel frattempo il Consiglio regionale lavorerà per organizzare nel prossimo mese di novembre la visita in Molise del Ministro della Giustizia Orlando, al quale sarà chiesto ufficialmente di preservare tutti i presidi giudiziari di sicurezza che oggi sono a rischio.